Buona domenica 24 dicembre, l'ultima domenica d'avvento e vigilia di Natale. Il Vangelo ci offre un quadro estremamente interessante su come noi dovremmo porci relativamente ad accogliere il Natale. Ci ricorda Papa Francesco che siamo chiamati a uno svuotamento da noi stessi per fare spazio alla grazia di Dio. È quello che accade nel rapporto tra l'Angelo e Maria. L'Angelo la dichiara piena di grazia, ma perché questo possa accadere è necessario che ognuno di noi, come Maria, faccia spazio dentro di sé. Sia disponibile ciascuno e ciascuna a vivere nella pienezza di una umiltà che appunto significa trascendere noi stessi, superare ogni forma di egocentrismo che è antitetico. L'egocentrismo è antitetico alla pienezza della grazia che non è nostro merito fare risaltare noi stessi, ma è una condizione nella quale è necessario uno svuotamento, una liberazione da noi stessi per accogliere il messaggio di salvezza. Il brano del Vangelo di oggi è certamente molto noto, temo però che qualche volta tutto ciò che è largamente noto diventa in qualche modo una forma di retorica che ci impedisce di accogliere il messaggio intenso perseverante nel corso dei secoli, perché ci riporta alla conversione di noi stessi e delle nostre prospettive. Lasciandoci andare a quel messaggio che l'angelo porta a Maria, ma leggiamo il Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth. Vedete, Dio manda l'angelo Gabriele, non in una metropoli, non in un castello, in una piccola città, in una semplice casa, in una dimora quotidiana, a una vergine promessa, sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. È un quadro estremamente semplice. Entrando da lei disse Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, piena di grazia. A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Un discorso semplice, ma allo stesso tempo complesso, perché riassume in sé Ciò che accadrà e continuerà a accadere, accade nella quotidianità, oggi. E abbiamo bisogno di riconfermare l'ascolto di queste parole, facendo spazio dentro noi stessi. Allora Maria disse all'angelo Come avverrà questo, perché non conosco uomo? Le rispose l'angelo Lo Spirito Santo scenderà su di te E la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile Nulla è impossibile a Dio Allora Maria disse Ecco, la serva del Signore Avvenga per me secondo la tua parola E l'angelo si allontanò da lei Passaggi semplici, complessi Turbamento, ascolto Forse difficoltà anche a comprendere un disegno di questo tipo Ma fiducia, fede, profonda Ecco, la serva del Signore Avvenga per me secondo la tua parola Questo dovrebbe essere il nostro modo Di accogliere il Natale Il lieto annuncio La pienezza della presenza Della parola che si è fatta carne E così Papa Francesco Commenta il brano del Vangelo di oggi All'Angelus dell'8 dicembre 2019 Nel Vangelo di oggi risuona Il saluto dell'Angelo a Maria Rallegrati piena di grazia Il Signore è con te Dio l'ha pensata e voluta da sempre Nel suo imperscrutabile disegno Come una creatura piena di grazia Cioè ricolma del suo amore Ma per essere colmati Occorre fare spazio Svuotarsi Farsi da parte Svuotarsi Farsi da parte Ripeto ancora Liberarci definitivamente Dal nostro egocentrismo E antropocentrismo Proprio come ha fatto Maria Che ha saputo mettersi In ascolto della parola di Dio E fidarsi Totalmente della sua volontà Accogliendola senza riserve Nella propria vita Ma la domanda che possiamo porci oggi Dobbiamo porci Siamo capaci di fare spazio in noi E accogliere la volontà Di Dio Della parola che si è fatta carne Nella nostra vita Senza tentennamenti Anche laddove non comprendiamo il senso Dobbiamo fidarci Tanto che In lei La parola si è fatta carne Questo è stato possibile Grazie al suo sì All'angelo Che le chiede la disponibilità A diventare la madre di Gesù Maria risponde Ecco La serva del Signore Avvenga per me Secondo la tua parola Maria Non si perde In tanti ragionamenti Non frappone Ostacoli al Signore Ma con prontezza Si affida E lascia spazio All'azione dello Spirito Santo Mette subito A disposizione di Dio Tutto Il suo essere E la sua storia personale Perché Siano La parola E la volontà di Dio A Plasmarli E portarli A compimento La parola E la volontà di Dio Deve trovare spazio In noi Molto spesso Noi siamo Tentati Di esprimere Semplicemente La nostra volontà Magari dichiarando Anche che vogliamo Essere I tutori Della civiltà cristiana Senza fare In noi spazio Senza Ascolto E obbedienza Non è possibile Diventare Testimoni Del buon messaggio Della bella notizia Che Il Natale Ci porta Così Corrispondendo Perfettamente Al progetto Di Dio Su di lei Maria diventa La tutta Bella E la tutta Santa Ma senza La minima Ombra Di autocompiacimento Anche questa Sottolineatura È estremamente Importante Bella E santa Ma Molto lontana Da qualsiasi Forma di autocompiacimento Non c'è In lei Traccia Dell'autocompiacimento Il narcisismo Egocentrico Antropocentrico Dell'umanità È molto Incline All'autocompiacimento E quindi Questo Significa Indisponibilità D'accogliere La pienezza Della vita Che Gesù Porta A tutta L'umanità Credenti O non credenti Dobbiamo essere Sempre Comunque Disponibili A fare spazio In noi Per accogliere La pienezza Della vita È umile Sì Maria è umile Ma noi Siamo umili Lei è un Capolavoro Ma rimanendo Umile Un capolavoro Nell'umiltà Piccola Povera In lei Si rispecchia La bellezza Di Dio Che è tutta Amore Grazia Dono Di sé Ecco Queste parole Ritengo Ritengo Che siano Il fondamento Stesso Della vita Autentica Grazia Amore Trascendenza Liberazione Dal narcisismo Egocentrico E accogliamo Questo poetico Annuncio Di oggi Preparandoci Al Natale Alle successive Giornate Immergendoci Nell'ascolto Nell'obbedienza Nel dire Sì Alla vita Che viene Alla parola Che si è fatta carne Per i non credenti Alla vita Autentica Che è Iscritta Nel creato E nell'universo Sono Tutte prospettive Radicalmente Ecologiche Di un'ecologia Profonda Radicale Integrale Quella che Papa Francesco Ci ha donato Nella Laudato Si Nella Laudate Deum Nella Fratelli Tutti Immergiamoci In questo Clima Nantalizio Con Una disponibilità A fare Spazio E dire Sì Al messaggio Di salvezza Che ci viene Donato Buona giornata A tutte E a tutti